Gentili telespettatori, buona giornata. Un quotidiano scrive Salvini lancia la cura shock per far volare il paese. Ma quale sarà questa cura shock? Flat tax fino a 100.000 euro di rendito. E la cura shock? Ma non era Renzi che diceva shock because and mine. Ricordate Renzi e l'inglese? Mitico Renzi. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Mi sembra che adesso l'inglese lo sappia molto meglio, abbia studiato. Bene, questa è la cura di Salvini per rilanciare l'economia. Il leader della Lega ha spiegato che questa novità andrebbe inserita all'interno di un pacchetto complessivo. La Lega ha presentato emendamenti alla delega sulla riforma fiscale per tagliare tasse e burocrazia. Diciamo no alla riforma del catasto. La flat tax fino a 100.000 euro. Salvini nel frattempo continua a battersi su un altro fronte caldo, quello del caro Bollette. I contatti con il governo sono costanti. Allora, flat tax fino a 100 euro significa mettere una tassa fissa per tutti i redditi fino a 100 euro. 15%, tutti pagano 15%. Che cosa significa? Significa che tutti pagano meno tasse. E se tutti pagano meno tasse, significa che le persone hanno più soldi in tasca. Più soldi in tasca vuol dire che possono o risparmiare o spendere di più. Spendendo di più fanno girare l'economia, gira l'economia comprando le cose, questi prodotti hanno l'iva, hanno le tasse e una parte di quei soldi che lo Stato vi lascia in tasca e non li prende come tasse, voi glieli fate tornare sotto forme di nuove tasse comprando le cose. Naturalmente comprando le cose l'economia aumenta, quindi le aziende vendono di più e assumono di più. Però oggi parliamo di un contesto globale. Se tu spendi di più e compri più prodotti, l'azienda deve produrre più prodotti, giusto? Quindi assume più personale perché l'azienda diventa più grande. Ma se noi i prodotti li compriamo in giro per il mondo, perché con la globalizzazione noi compriamo dappertutto, tutti gli Stati comprono dappertutto. Pertanto un aumento degli acquisti non favorisce solo le aziende nazionali, ma le aziende in giro per il mondo. Quindi questo beneficio non ricade esclusivamente sulle aziende italiane, ma ricade un po' dappertutto. La flat tax farebbe ripartire i consumi, perché gli italiani pagherebbero meno tasse e avrebbero più soldi in tasca. Però c'è un grande però. Perché questo non è stato fatto prima? Non è così semplice? Allora, guardate un po'. Salvini dice flat tax fino a 100.000 euro. Va bene. Io la propongo fino a 110.000 euro. La mia proposta è migliore, no? Un altro dice io dico 110.000 euro come il professore, ma al posto che 15% metto 14,5% di tasse. E vai, vinco io. Arriva un altro che dice 110.000 euro, io metto 120.000 e 14% di tasse. E vai, vinco io. Secondo voi è così che funziona? Vince chi abbassa le tasse di più? Non vi sembra troppo semplice fare ripartire i consumi? Abbassi le tasse. È così semplice, no? Tu paghi il 30% di tasse, tu ne paghi il 40%. Facciamo 15% per tutti. Beh, così uno diventa un eroe incontrastato, una statua in ogni piazza della città d'Italia, colui il quale abbassò le tasse. Tutti i governi che si sono succeduti in Italia, dal dopoguerra in poi, arrivano con l'idea di abbassare le tasse. Poi si scontrano con il fatto che le tasse non le puoi abbassare perché quelle tasse servono a mantenere l'Italia, i debiti che ha fatto a mantenere la pubblica amministrazione, le pensioni, le spese militari, gli armamenti, la luce pubblica, le aziende di Stato, a mantenere i ministeri, la politica, le regioni, le province, i comuni, le strade, la manutenzione delle strade, delle montagne, delle colline, delle pianure, la bonifica di qui, i porti, i treni, le vie. Lo Stato negli ultimi decenni si è indebitato sempre di più, sia come importo, valore economico, sia anche in percentuale sul PIL. Nessuno è mai più riuscito ad abbassare le tasse, o almeno quelli che vi hanno fatto credere di aver abbassato le tasse. Giuseppi, Conte, io l'unico che ha abbassato le tasse di due miliardi e mezzo, eh? Tiè, beccatevi questa. Io l'ho abbassato... Ma vi ricordate, Conte? Io ho abbassato le tasse di due miliardi e mezzo. Ma era vero? Sì, era vero. Lui aveva abbassato da una parte le tasse di due miliardi e mezzo, ma nel complesso le aveva alzate di sette. In realtà c'era un aumento delle tasse, sette meno due e mezzo di quattro miliardi e mezzo di tasse. Quindi lui pubblicamente col governo aveva detto qui, qui, vedete qui, abbasso le tasse e tu ne beneficerai. Però, silenzio, su tutte le tasse intorno a te aumentate per sette miliardi. Quindi tu avevi cinquanta euro in più in busta paga, grazie all'avvocato del popolo, carta canta, cinquanta euro in più. E poi avevi settantacinque euro in più di nuove tasse al mese. Avete capito il perché vi dico, caro Salvini, troppo semplice uscirsene con abbassiamo le tasse? Questo lo può dire chiunque che sta ascoltando questo video, può dire, tu Salvini l'abbassi del 15? Io faccio 14,99. Vinco io. C'è qualcuno che offre di più? 14,97, 14,95. È un po' troppo semplicistica come risoluzione dei problemi degli italiani questo, perché abbassando le tasse mancano entrate per lo Stato. Detta così, caro Salvini, è fin troppo semplicistica. Bisogna fare un discorso molto più ampio che prende una riorganizzazione delle spese dello Stato, l'abolizione di tante cose, ci sono spese inutili, ci sono sussidi inutili, ce ne sono tante di cose dove puoi spostare, spostare le risorse, spostare le risorse, ma solo dire taglio le tasse così non si va da nessuna parte. Arrivederci a tutti e grazie.